benvenuti su questo nuovo video su FAMISMUTO 22 inoltre vi lascio sempre in alto a destra il link al video direttamente mi raccomando andate a dare un'occhiata vi ricordo che sono in live su Twitch e niente di più vi ricordo anche di lasciare un like, un'iscrizione, mi raccomando ho fatto, ho imballato questa paglia che adesso la possiamo anche vendere quindi scarichiamo le balle, ok, e le altre adesso le ricarichiamo e le vendiamo pure quelle, 8000 euro, ma insomma meglio che niente perché alla fine è sempre guadagno extra comunque in questo episodio, in questo video, adesso non so di più cosa fare ci sarà il cotone sicuramente da raccogliere, ma di preciso non lo so nemmeno io allora, andiamo, vediamo comunque queste qui le scarica tutte dentro tutte vendute, ho fatto tipo 16.000, beh ho fatto 11.000 euro dalle balle beh, non mi posso neanche lamentare allora, comunque le galline dovrebbero essere a posto, no? teoricamente le galline sono a posto, le uova non ce ne sono ok, le uova non ce ne sono ci sono un mezzo pallet quindi possiamo andare anche a dormire i campi sono a posto, quindi andiamo a dormire allora, siamo a novembre quindi, le galline qui hanno fatto un bel carico sono 29.000 litri di uova quindi, molto molto bene si, sono prese un po' maluccio ma, adesso le tiriamo in qua ovviamente allora, io volevo comunque vedere se il mio campo numero 20 era a posto si poteva appunto raccogliere, perfetto allora, andiamo fra la banca mi prendo un po' di soldini 40.000 euro, penso che mi bastino e non raccoglitrici e ho aggiunto comunque una mod ovvero questa metitrebia qui che è un po' più grande, quindi teoricamente si mettono di meno a raccoglierlo adesso non so come potremmo portarlo in farm però quelli sono dettagli se io lo noleggio in che senso 40.000 euro non basta per noleggiare questa bestia? 46.000 euro per noleggiarla? eh la madonna, 19.000 euro per ora mi faccio due ore sai che preferisco quella normale piccolina? ma preferisco 24.000 euro e è molto buona allora vediamo il prezzo delle uova soprattutto se sono curioso le uova 4.100 4.300 nel panificio panificio è sopra anche la media perfetto allora come prima cosa direi portarla raccogli il cotone già sul campo ok noi qua mettiamo il cosplay vediamo se fa un buon lavoro perfetto è iniziato bene 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 bravo cosplay buon lavoro e mi raccomando meno ci metti quindi è più so felice noi comunque adesso andiamo a vendere le uova allora io sono arrivato ma per vendere ste uova? forse da qui? mi se non sbaglio era da qua ok vende 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 perfetto bene quantità ti facciamo madonna le galline in un in un anno neanche in un anno 130.000 euro oh le al miele si io le apri le ho prese piccate per bellezza ma comunque mettiamo via un paletto di mele che non si sa mai poi comunque diamo un po' di cosa la serra oh madonna quanto quanto bere oh un altro paletto di miele eh un altro paletto spawnato ma che bello vabbè andiamo a spostare sto sti pallet allora compriamo comunque un po' di di cibo quindi prendiamo un po' di frumento così teoricamente siamo apposso per un pochettino toh sei pallet? 9.000 euro? vabbai spendi spendi e ora cariciamo tutto quel frumento allora abbiamo scritto tutto il frumento e le galline con 6.000 litri sono a posto ho visto che c'è anche il periodo di seminare il frumento quindi non perdiamo altro tempo prendiamo questo trattore e andiamo subito a seminare il frumento così dopo è tutto guadagno alla fine dalle galline così non dovremmo comprare il cibo ecco adesso mettiamo il crossplay giustamente da qui da qui da qui così posso fare anche la paglia da qui perfetto ottimo direi molto molto bene vai ok siamo arrivati in farm lo mettiamo qui il carrellino perfetto con questo trattore comunque andiamo a prendere anche magari c'è qui il caricatore frontale che non mi serve andiamo prendere anche la prima palla di cotone andiamo a prendere la palla la portiamo già lì ovviamente senza venderla non è possibile così andiamo a posto con una spinta e siamo a posto ok perfetto allora siamo arrivati io adesso questa qui la scarico più o meno più o meno qui ole così non si vende siamo a posto ok abbiamo finito di seminare qui ho portato anche il cibo alle galline quindi molto molto bene l'arco di cotone piano piano sto facendo un po' di tutto quindi per sapere il miele quanto sta di di prezzo eeeh tuc, diesel, fieno miele uh 3000 eh buono locanda beh si così qui possiamo caricare quel quelle cosi li devo venderle perché no ok le ho posto due alla volta ok ok allora mi metto qui perfetto tutti caricati siamo arrivati ah non so se devo venderli perfetto posto quindi vi lascio il resto vi lascio comunque per aver visto questo video fino alla fine noi ci vediamo settimana prossima o in live ciao